Comunisti L'8 marzo è una data da lotta Perché è la lotta delle donne Che hanno sempre cercato comunque In tutti i modi di far valere le proprie ragioni Non ci sono riuscite Si sono fatte ammazzare Perciò bisogna comunque commemorare l'8 marzo Non per andare a fare feste O quant'altro Ma per ribadire il concetto Che noi comunque che siamo donne Qui in questo cantiere Comunque ribadiamo che La valle non si tocca Che difendiamo il nostro futuro Che l'8 marzo è la difesa del territorio Si è incollato lì Si è incollato il culo contro la pietra Giù le mani della Val Susa Giù le mani della Val Susa Eh? Stava a partire la stagione Diciamo che la civiltà viene un po' meno Quando succedono queste cose Siamo bene Siamo bene Siamo bene Siamo bene Siamo bene Siamo bene